Ciao amici di Radio Ucci, io sono Giulia e ti do il benvenuto in questo Focus Previdenza in cui parliamo del nuovo sistema di invio per i certificati di infortunio sul lavoro, attivo proprio da oggi 28 aprile. Il nuovo applicativo disposto dall'Inail, che dovrà essere utilizzato da medici e strutture sanitarie, prevede delle novità per quanto riguarda l'invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione già in uso, ovvero online, offline e cooperazione applicativa interoperabilità. In particolare, le novità riguardano i contenuti del certificato, il tracciato del file da inviare in modalità offline in formato XML, l'interfaccia utente del servizio online, aggiornata in base alle nuove linee guida dell'Istituto e la modalità di interoperabilità adeguata alle linee guida Agid in sostituzione della cooperazione applicativa. Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio offline dovranno quindi adeguare il proprio sistema entro oggi, mentre gli utenti che trasmettono i certificati in cooperazione applicativa potranno continuare ad usufruire dell'attuale servizio, ma solo fino alla fine di quest'anno. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2023 sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio REST. E per ora è tutto, al prossimo Focus!